Salve Dezo Max e benvenuto all'ennesima video lezione su 3ds Max 2016 2016 beh in questa lezione parleremo un poco delle gerarchie di che cosa sono e come poter associare un oggetto ad un altro e delle varie possibilità che offre questo strumento per fare tutto ciò. Ovviamente le gerarchie vengono usate in molteplici casi quelle più comune che mi viene in mente è quella che riguardano lo scheletro di un corpo umano ad esempio connesso ognuno all'altro in modo ordinato. Bene andiamo a vedere un po' di che cosa si tratta. Andiamo nel pannello sempre standard geometry creiamo ad esempio un box un cono magari ecco e creiamo ad esempio una sfera beh il metodo classico che 3d studio è sempre usato per creare delle gerarchie tra gli oggetti è principalmente quello che vedete qui in alto a sinistra. La possibilità di selezionare è di collegare un oggetto ad un altro seleziono la sfera e la collego al cono seleziono il cono e lo collego al box e ho creato una gerarchia cioè se io vado a spostare il mio box mi porto con me i due elementi adesso connessi collegati se sposto solo il cono altresì mi porto solo la sfera ma nella versione 2016 volessi diciamo che nella versione 2016 di 3d studio max io queste operazioni posso già vederle dal scene explorer vedete io se mi metto in modalità non layer ma gerarchie vedo che c'è una connessione tra la sfera e il cono e il box per eliminare queste connessioni seleziono tutto e vado su unlink selection vedete che anche qua non esiste più la dipendenza avrei potuto fare la stessa cosa semplicemente dal pannello qua sconnettendo gli oggetti portandoli fuori insomma ho sconnesso i tre oggetti per riconnetterli prendiamo la sfera la mettiamo nel cono e il cono nel box abbiamo creato la gerarchia questi sono due modi questo è un modo nuovo quello è il modo classico standard a questo si aggiunge in realtà un altro modo per fare tutto ciò se noi andiamo in graph editor e creiamo una nuova vista schematica questa è la possibilità di poter visualizzare addirittura io vedete qua nello schema esiste una relazione tra il box il cono e la sfera molto semplice se volessi visualizzare anche i parametri del pivot di posizione di rotazione e di scala potrei far uso di questo strumento che per adesso non ci interessa cancellare un collegamento è semplice selezionarlo e cancellarlo automaticamente vedete anche nel scene manager sono scomparse le relazioni se volessi collegarle di nuovo faccio la stessa operazione la sfera al cono il cono al box ho ripristinato il collegamento per cui tutte queste icone che vedete qua sopra in realtà non è nulla di particolare più che altro serve a diciamo così sono più che altro delle icone che servono magari ad allineare il grafico e a fare tante altre cose ma comunque vi invito a guardarle sono poche icone e vi renderete conto subito che si tratta di una una cosa solo da un punto di vista diciamo così visuale possiamo creare ovviamente quante viste schematiche noi vogliamo se ne creiamo un altro perché ci interessa che il collegamento venga disposto in un modo diverso per avere una visualizzazione diversa del collegamento io non faccio altro che crearmi una nuova vista schematica e se voglio la rinomino e se voglio cancello direttamente dai pannelli esistono vari layout per queste per questi tipi di operazioni comunque questo è il succo delle gerarchie le gerarchie ovviamente prescindono anche dal pivot ossia dal punto di origine in cui sono stati generati se io vado nel pannello gerarchia quindi mi sposto da modifica con l'oggetto box selezionato posso attivare tre tipi di visualizzazione del pivot e di allineamento se faccio effect pivot only cioè le operazioni adesso avranno effetto solo sul pivot posso decidere di centrarlo all'oggetto vedete di allinearlo ad un oggetto tipo questo o comunque di fare tante altre operazioni all'interno delle gerarchie ma questa è una cosa ripeto era una lezione doverosa semplice penso che chiunque sia riuscito a capire queste diciamo le gerarchie e che altro aggiungere io penso che non ci sia nulla da aggiungere anche per quanto riguarda questa lezione vi do appuntamento alla prossima lezione è che la prossima lezione è la prossima è 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 Grazie a tutti.